... Vedete questo signore? Si chiama Stefano Pizza ed è un magistrato. Nel processo per il naufragio della Concordia, lui era il pubblico ministero, quindi il titolare dell'accusa. E' stato indagato insieme a un altro magistrato, Palamara, perché ha messo su un piano di prove false per screditare il PM Ciavattini. Io vi avevo già parlato di questo pubblico ministero del processo per il naufragio della Concordia. E in un video precedente, dal titolo Prove false, vi avevo raccontato come questo magistrato avesse portato in tribunale una prova falsa. Questo video riguarda una prova decisiva da parte del PM, l'abbandono della nave. Osservate queste immagini che la procura mostrerà in aula durante l'interrogatorio di Francesco Schettino. Sono state realizzate la notte del naufragio di fronte all'isola del Giglio. L'operatore si trovava sugli scogli della Gabbianara, di fronte alla Concordia. Filmò ciò che accadde sulla nave. Quello cerchiato di rosso è Francesco Schettino, come vedete, alle mani in tasca. Qual è la prova? Il pubblico ministero fa vedere questo filmato e dice... Questi fotogrammi sono stati girati pochi minuti prima del suo abbandono della nave. La procura vuol dimostrare che Francesco Schettino, che come vedete, ripeto, alle mani in tasca, non dà certo l'impressione di una persona che ha un equilibrio precario. Se fosse stato così, sostiene il PM, si sarebbe arretto da qualche parte, dal momento che l'inclinazione della nave è già notevole. Dunque, secondo l'accusa, l'ex comandante della Concordia non perse l'equilibrio e scivolò sul tetto della scialuppa, come ha sempre sostenuto lui, ma abbandonò la nave di sua spontanea volontà. Questo filmato ci mostra che Schettino sta lì, tranquillo, con le mani in tasca, e non si regge da nessuna parte. Quindi la nave non era inclinata chissà che. Quindi lui non ha abbandonato la nave perché gli si è rovesciata addosso, ma ha abbandonato la nave perché ha preferito scappare. Questo filmato, io avrei chiesto al Pubblico Ministero a che ore è stato girato. Questo filmato, ve lo dico con certezza, è stato girato prima delle 00.17, che è l'orario preciso in cui la nave si è rovesciata. È un filmato precedente, è un filmato in cui si vede Schettino che mette in salvo più di 4.000 passeggeri. Non è il filmato del momento del ribaltamento. Non c'è, non esiste, perché nessuno ha filmato quegli istanti. Alle 00.22, cioè 5 minuti dopo il ribaltamento, la nave, l'avete visto, la faccio rivedere in che condizioni sta. Questo fatto dell'abbandono della nave, sostenuto da De Falco, ribadito dal Procuratore Generale e dal Pubblico Ministero, come cosa vera, è un falso, vergognoso. Io voglio vedere, o avrei voluto vedere in tribunale, un filmato con un orario. Voi lo sapete che quando si registra con una telecamera c'è l'orario impresso, c'è il giorno, l'ora, il mese e l'anno. Allora fatemi vedere, come si dice, un filmato del comandante Schettino mentre abbandona la nave e mentre la nave si sta rovesciando. Non ce l'avete, non ce l'ha. Allora voi fate vedere un filmato antecedente al ribaltamento della Concordia. Voglio dire, se usavate ancora un filmato del giorno prima non c'era manco la Concordia. Cioè, le prove sono prove se sono dimostrabili. Questa non è una prova, è una prova falsa, sparata dal Pubblico Ministero in un tribunale per fottere il comandante Schettino. Quello che è certo è che la prova portata in tribunale dall'accusa è falsa. Non dimostra assolutamente quello che si dichiara debba dimostrare. Il comandante Schettino è un comandante di navi che ha avuto un incidente di navigazione. Quello invece che ha messo su Stefano Pizza, magistrato, è la produzione di prove false per fottere una sua collega, anche lei magistrato. Un fitto scambio di chat tra il magistrato Stefano Pizza, già sostituto procuratore di Grosseto, e l'allora consigliere del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, Luca Palamara, con l'unico scopo di danneggiare la collega Arianna Ciavattini. Si arricchisce di nuovi particolari la vicenda che vede il magistrato Stefano Pizza invischiato nell'inchiesta sul CSM, dove Palamara è il principale indagato. La Procura Generale della Cassazione ha incolpato Palamara e Pizza di un'attività di intenso dossieraggio nei confronti della collega Arianna Ciavattini, rea addetta di Pizza, di aver sabotato i miei processi di pubblica amministrazione contro un leader politico locale. Il quotidiano La Verità ha riportato alcuni passi salienti delle intercettazioni delle chat tra Palamara e Pizza, che si dice indignato per la richiesta di assoluzione da parte della Ciavattini nei confronti dell'ex sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci. Ecco allora la soluzione finale, come annota la Cassazione. Infine Pizza predisponeva, in accordo con Palamara, che veniva successivamente sollecitato a fornirgli notizie, un esposto anonimo contro la dottoressa Ciavattini, che provvedeva a spedire, come sopra preannunciato, alla prima commissione del CSM e al Consiglio giudiziario di Firenze, al fine di promuovere accertamenti e valutazioni, tutti tesi a screditare e danneggiare il predetto magistrato. Ma il piano non si realizza e Pizza esterna palamara tutta la propria preoccupazione. Luca, non mi vuoi più bene! E Palamaro? Sempre, Ciccio, ti voglio bene! Stefano Pizza ha una sua visione molto personale della giustizia, della legalità, della legge uguale per tutti. Lui si è sfogato di brutto contro il comandante Schettino, dicendo cose orribili. È stato un incauto idiota il comandante Schettino e Dio lo perdonerà, io no. Tornando al caso della Concordia, questa è la conferma di quello che io dico da anni. La sentenza che ha condannato il comandante Schettino a 16 anni è una sentenza viziata, da doppiezze, da una stampa che si è venduta. Dunque è da riscrivere e questa storia di Stefano Pizza è la conferma, se ce ne fosse bisogno, di questa mia teoria.